Noi abbiamo una priorità che è chiara a tutti, la scuola c'è, la scuola è centrale alle nostre comunità, tutti stiamo lavorando per garantire una conclusione adeguata dell'anno scolastico, questo vuol dire una valutazione, i ragazzi hanno diritto di una valutazione anche perché siamo arrivati a fine anno, quindi scrutini, esami, però insieme legate la ricostruzione. Noi 17 settembre vogliamo tutti i nostri figli a scuola. Noi abbiamo avuto al primo terremoto 69 edifici lesionati, questi si sono triplicati con il 29 e stiamo vedendo adesso la situazione, però abbiamo fino al primo momento avuto delle squadre importantissime con dentro ingegneri delle nostre università che stanno verificando i danni di che natura sono. Vi faccio un esempio, le strutture primarie, cioè il cemento armato tiene, sono esplosi i tramezzi. Beh in quel caso lì stiamo verificando, stiamo verificando, stiamo ripulendo, in questo caso siamo in grado anche di recuperare le nostre scuole. Ma dove non ci sono, noi stiamo ragionando fin da subito con le nostre università per capire se esistono dei modi per una costruzione di alta qualità che poi abbia tempi ridotti, ma anche in questo abbiamo la fortuna di avere dietro di noi l'Emilia e quindi anche le nostre grandi università.